Allora, non lo vedo più, beh, dico subito una bugia, giusto? Dov'è Don Davide? Non pensavamo che anche alle 5 e mezzo sareste stati così numerosi, invece no, aspetta, alle 5 e mezzo le sei un quarto, perché noi veniamo da Fano. Comunque ringraziamo innanzitutto voi per tutto l'affetto che ci dimostrate, che ci state dimostrando, eravate così tanti anche un mese fa con Margherita Bu, insomma, noi siamo molto contenti, anche perché poi i fari che si accendono, come abbiamo sempre detto, in un cinema, in una città, in un piccolo segmento, al momento che è quello delle Marche Nord, Pesaro, Fano, Senigallia, e che danno la possibilità a voi di incontrare quelli che sono i protagonisti, per noi è fondamentale. Quindi ringraziamo ancora una volta voi che siete qui, fatevi un applauso perché adesso chiamiamo e facciamo entrare il nostro ospite che è Neri Marco Re, lo vedete laggiù, è anche microfonato, eccolo là, grazie, grazie Neri, ti invito a salire sul palco perché... Volentieri. Sera. Ciao. Sì. E lascio la parola a Laura, che ovviamente... Laura che c'è io. Dicevamo, aspetta, no, lo vai a camera. Anche sopra, grazie, grazie di essere qua tutti quanti. Neri Marco Re! Grazie, arriva. Che bello. Che bello. Lo ringraziamo per una cosa sola, cioè eravamo partiti dicendo, guarda Neri, vorresti venire a fare una presentazione così? Sono sei, le fa in quattro ore e mezzo, insomma, quindi questa è la seconda. Non so stasera... No, no, è solo un piacere, no, figurare questa è la mia creatura, appunto, figurare come avere un figlio e accompagnarlo a primo giorno di scuola, anche se questo è il quinto, sesto, insomma, il film è uscito giovedì, però appunto siamo partiti, abbiamo fatto Napoli, Roma, Milano, Torino, lunedì, ieri Genova, adesso qua, domani Bologna e poi, se Dio vuole, mi fermo perché... No, nel senso che poi riprendo la tournée teatrale, quella che avevo fatto, ho cominciato l'anno scorso anche una, con una buona novella. No, mi piacerebbe accompagnarlo pure per tre mesi, sto film, perché ci ha messo l'anima, il cuore, tutto, l'impegno, il divertimento, e però poi, insomma, è uscito nel periodo in cui stavo già in tournée e quindi almeno, almeno, ho detto un po' una tappa nelle mie marche e dico, lo facciamo, poi dopo, se non riesco a coprirle tutte, almeno, insomma, un pezzetto, lo facciamo. Quindi, insomma, grazie a voi che ci avete chiamato qua. Allora, ricominciamo le domande. Sì, sì, volentieri. Anche se non diremo, non possiamo dire molto del film, ovviamente, visto che lo dovete vedere, quindi niente che attenga alla trama, se non quello che avete letto, insomma, quello che avete letto. A Fano abbiamo detto il finale, Neri. Che lui non muore. No, non è un giallo, non è un giallo. Come hai incrociato la sceneggiatura, che non è originale, ma tratta da un libro di Roberto Perrone. Come l'hai incrociata? Tra le tante cose, la tua prima opera da regista, potevi scegliere tra tantissimi soggetti. No, era una storia che avevo letto vent'anni fa, perché poteva essere anche un film vent'anni fa. Avevo cominciato pure a scriverlo insieme a uno sceneggiatore, che poi ha scritto anche questo, e un'altra sceneggiatrice. Poi però è stato interrotto quella lavorazione, è stato accantonato, diciamo, all'inizio, proprio nella culla quasi. Però a me era rimasto così, la voglia di raccontare la storia di questo protagonista, che vedrete, insomma, un ragazzo apparentemente stabile, con un lavoro fisso, insomma, un trentenne, che però, insomma, dentro di sé cova un po' il germe dell'inadeguatezza, del fatto che sicuramente non ha ancora affrontato la vita vera, e quindi preferisce non avere sorprese dalla vita. Ma all'inizio del film succederà qualcosa che lo porterà quindi ad affrontare una situazione che non avrebbe mai desiderato, anche se non è un trauma, niente di particolarmente doloroso, però questo cambiamento poi, insomma, lo porterà a tutti gli sviluppi che seguirete. A me piaceva proprio questo tema centrale, un po' dell'inadeguatezza, della timidezza, perché anche se il protagonista c'ha trent'anni, io, timido e un po' impacciato, lo sono stato in adolescenza, 14-15 anni, in quegli anni lì in cui, appunto, prima di dire una parola, soprattutto di rivolgere la parola a una ragazza, cioè ci pensavo un anno, quindi magari un anno dopo, era passata, insomma, quindi non era un po' tardi. Quindi, diciamo che lì ci ho rivisto molte cose che mi riguardavano, ho visto la possibilità di fare molta anche comicità, una commedia, appunto, vedrete, nelle proiezioni che sono state fatte, il pubblico che l'ha visto ha riso molto, insomma, sottolineano anche molto l'aspetto comico del film, che appunto è una commedia, e come le commedie che si rispettino, secondo me, appunto, quelle degli anni Sessanta, il tentativo mio era di far ridere, ma non banalmente, non cercando la comicità fine a se stessa, ma che venisse fuori da situazioni realistiche, perché questa è una storia comunque realistica, anche se inventata, e nella quale poi ci potesse essere spazio anche per emozioni più profonde, per arrivare anche alla commozione. E quindi, insomma, ho messo insieme tutto questo, rifacendomi al mio gusto personale, da spettatore, da uno che ha visto tanti film, tanto cinema, che li ha girati anche, insomma, un po' di film, per cui l'esperienza che ho maturato sui vari set mi ha permesso di sentirmi abbastanza sicuro, ha trent'anni, diciamo, e passa dall'inizio di questo lavoro che svolgo, e quindi alla fine poi mi sono sempre piaciute le sfide, e quindi quando, ritirando fuori questa storia, e torno alla tua domanda, perché avevamo girato un film a San Benedetto, sempre con la produzione di Saccà, che era digitare il codice segreto della serie Purché finisca bene, qualcuno l'avrà visto, in cui faccio un psicologo molto tirchio, molto avaro, e allora a cena lì parlavo con il regista, ho detto, ma c'è questa storia di come piacerebbe rimetterla in piedi, e lui l'ha letta, ha detto, ah sì sì, potremmo girarla questa cosa qua. Poi ho parlato col produttore, anche lui l'ha letta, gli è piaciuta, ha detto, però la regia voglio che la faccia tu, insomma, quindi, insomma, ha detto a Mireille che tu l'abbia proposta un altro regista, però se secondo me c'hai le carte per poter fare, debuttare alla regia, era una cosa che effettivamente anch'io accarezzavo come idea da tanto tempo, e non pensavo che avrei debuttato con questa storia, magari pensavo più con una cosa scritta da me. Però visto che l'occasione si è rivelata in questo momento, in questo frangente, visto che era una storia che secondo me potevo essere in grado di raccontare, di dirigere, ho detto volentierissimo, quindi abbiamo cominciato a mettere in piedi tutte le varie fasi, che portano poi alla realizzazione di un film, quindi dalla scrittura del soggetto, alla sceneggiatura, e poi la sceneggiatura dopo varie versioni approvata, quindi poi i sopralluoghi, il casting, insomma... È un mestiere duro quello del regista? Come? È un mestiere duro quello del regista? No, è un mestiere lungo, perché ovviamente fare un film significa, anche se poi all'interno di questi due anni e me, a parte il film è pronto da un anno, quindi diciamo nell'ultimo anno ho fatto altro, quindi ad aprile l'ho consegnato, quindi diciamo andando indietro ad aprile dell'anno scorso, diciamo un arco di due anni, due anni e mezzo, anche se poi non continuativi, perché ovviamente c'erano anche altri lavori in mezzo, però ecco è una cosa che sicuramente non si fa dall'oggi al domani, mentre da attore tu puoi fare anche il ruolo di protagonista, in un mese hai finito, invece da regista è un percorso più lungo, ma è un percorso molto affascinante, perché a parte che scopri delle cose che magari conosci in teoria, però poi decidevi imbattere direttamente, decidevi insomma, però è sempre bello, perché poi anche scegliere gli attori, le attrici del cast, hai mille possibilità, se poi fai quelle scelte lì è perché evidentemente c'è qualcosa che istintivamente pensi sia giusto, oppure razionalmente, oppure se scegli quei luoghi invece di altri, è tutto un fatto di scelte, insomma, di decisioni su cosa puntare, e speri che tutto quello che decidi di volta in volta sia giusto, sia il modo migliore per raccontare una storia. Ecco io volevo semplicemente raccontare una storia, mettermi al servizio della stessa, senza autocompiacimenti, senza mettermi al centro di questa storia, perché tra l'altro appunto il protagonista non sono io, ma questo giovane attore, cioè giovane, sì, giovane, 34 anni, in modo decidete voi, giovane, rispetto a me è sicuro, però, ma che di un mese 34 anni una volta c'era chi inventare, eh? Si diventava nonni quasi. Sì, Mozart, tipo, aveva già composto una cosa a nove anni, per cui, no, adesso si è tutto spostato in avanti, insomma, lui è bravissimo, lo scoprirete, ed è il primo ruolo da protagonista, e quello che gli dico e gli auguro lo stesso futuro, lo stesso avvenire che ho avuto io vent'anni fa, quando Avati mi aveva scelto per il cuore altrove, anche lì era il primo protagonista che facevo, e da lì poi ci sono aperte... Ti sei sentito il pupi Avati per lui? Sì, mi sono sentito, insomma, una specie di figlioccio, e quindi è nato questo rapporto di amicizia, insomma, di stima, perché lo vedrete, è bravissimo, e sono sicuro che dopo questo film molte proposte gli arriveranno, quindi... Paradossi lo hai scovato tramite casting, dicevi, mentre altri erano persone che... Sì, ho fatto il provino per lui, e mi ha conquistato dal provino, quindi, insomma, non conoscevo... non l'ho scelto prima di vederlo, l'ho scelto proprio dopo aver visto lui e altri due attori, e mi ha conquistato dopo questo provino, e ho detto per me è lui, l'ho sentito, insomma, la scelta decisa e netta. Lo stesso vale per altre attrici o altri attori del film, altri invece sono amici, attori con i quali avevo già lavorato, tipo Giovanni Storti, Giovanni Esposito, poi c'era Pia Lanciotti, con la quale avevo lavorato appunto a digitare il codice segreto, e altri invece li ho conosciuti, insomma, anche quella ragazza che vedete lì, bionda, aveva fatto un self-tape, cosiddetto, insomma, un'autoregistrazione, e ho voluto poi incontrarla di persona, e quindi ho deciso di affidare a lei questo ruolo di Dorina, che vedrete, insomma, no, è bello poter decidere se insieme, insomma, a te c'è questa squadra di persone di cui ti fidi, con cui c'è stima reciproca, perché anche i componenti, la troupe, il direttore della fotografia, l'aiutoregista, la scenografa, la costumista, la truccatrice, insomma, tutte persone con cui avevo lavorato. L'autore della colonna sonora che fa la differenza in questo film. Esatto, che ha scritto ovviamente le musiche originali, ha scritto due pezzi che sentirete, e poi c'è la colonna sonora, ci sono cinque pezzi degli anni Sessanta, musica, vabbè, periodo strepitoso da tanti punti di vista, ma musicalmente è quello che ci ha regalato davvero tante gioie. Io sentivo quei dischi lì nel Mangiadischi, che 45 giri mettevo lì e sentivo appunto canzoni come quelle che sentirete appunto nel film. Proprio la collocazione temporale è un dato che accomuna diversi film italiani di questo periodo. Proprio il gusto, la curiosità, la riscoperta di qualcosa di noi che in questo tempo che invece mediaticamente consuma tutto in fretta, abbiamo bisogno forse alcuni di riscoprire, altri di conoscere Ex Novo, quello che siamo stati. Un po' questo film penso che restituisca qualcosa di noi. Sì, io penso sicuramente insomma il tema dell'inadeguatezza è in qualche modo per esempio che ognuno di noi nella vita abbia superato magari un periodo nel quale si è sentito meno sicuro di sé, insomma un po' più intimidito questo per parlare di sentimenti. Il periodo degli anni Sessanta ecco, io mi ci sono dibattuto perché la storia era ambientata negli anni Sessanta, avessi dovuto scrivere una storia originale non lo so se l'avrei ambientata in quegli anni lì o invece in questi attuali, contemporanei perché poi insomma è sempre difficile magari leggere il presente è più facile forse il tempo passato però appunto per me non era una volontà legata tanto al periodo quanto ai sentimenti e alle emozioni che muovono questo giovane protagonista insieme ovviamente a quelle di tutti gli altri personaggi e beh guardarci indietro sicuramente è sempre utile non per restarci attaccati o per dire se stava meglio quando si stava peggio o essere nostalgici ma semplicemente magari per provare a recuperare alcune cose che non abbiamo più e che magari si possono invece recuperare non ultimi ma appunto una certa leggerezza nei confronti della vita e dei ritmi che siano più umani rispetto a questi a volte molto frenetici e quindi Walter l'avresti raccontato allo stesso modo vabbè la storia non si fa oggi oppure ci sono delle dimensioni di quel tempo che potevano aiutarlo no? oltre le relazioni che viveva si può raccontare comunque un personaggio che abbia un disagio nella relazione con gli altri anche se non evidente però dovevano cambiare tanti elementi intorno invece lì forse c'era anche un po' più discrezione tra persone non so se più o meno solitudine forse paradossalmente è più adesso nonostante appunto i social e tutto quello che ci fa pensare di avere tanti amici poi invece forse in fondo chissà se siamo più soli adesso o lo erano più loro però insomma in quell'epoca lì c'era sicuramente questo ritmo di vita e questo lasciar passare il tempo con una cadenza che riuscivi a capire le cose ti attraversavano più lentamente forse ne assaporavi meglio insomma il senso il gusto adesso è tutto un po' tanto veloce quindi anche fermarsi decidere dove fermarsi forse è più complicato perché ci arrivano mille prese per esempio soltanto l'uso dei telefoni è qualcosa che ha un peso notevole nella sceneggiatura l'uso del telefono la ricerca l'attesa sì ma è cambiato tanto appunto da allora il fatto che sì una volta si dovesse chiamare o in ufficio o a casa ma utilizzando il telefono magari del bar a gettoni magari neanche c'erano dovevi pagare appunto gli scatti al bar c'erano le macchine d'epoca che vedrete c'era proprio un altro modo di vivere ma insomma chi li ha vissuti quegli anni lì insomma lo sa e chi non li ha vissuti se li ha sentiti magari raccontare dai genitori o dai nonni e qua magari c'è questo spaccato di quella di quella Milano ecco siamo a Milano te lo dicevo prima Fano è molto interessante dal mio punto di vista anche la scelta dettata dalla sceneggiatura tratta appunto dal libro però molto interessante risentire questo sound milanese questa comicità meneghina questo modo scansonato anche un po' cinico a volte sembra no? di relazionarsi che è stato un po' messo da parte nel cinema degli ultimi tempi che ha privilegiato altri luoghi d'Italia o altre tradizioni sì diciamo che vabbè forse non so se è una comicità meneghina o una comicità che comunque risulta dalle situazioni e sicuramente è il mio modo di vedere la comicità te la senti più vicina insomma però è vero che Milano è stata sicuramente più più battuta come piazza magari che ne so nei film di Pozzetto di Celentano che adesso appunto non si vedono più e poi insomma tante volte i set si spostano proprio geograficamente c'era un momento in cui era più la comicità toscana di Nuti di Benigni di Pieraccioni c'è stato il periodo della comicità napoletana che insomma ogni tanto ritorna però per me Truisi era appunto insomma un dio da questo punto di vista però tanti film ormai cioè ormai quasi sempre i film si svolgono a Roma e forse pure troppi sempre con attori ma eri o attrici romani che sentiamo parlare romano e quindi magari l'idea invece di rinfrescare un po' l'orecchio sentendo un altro tipo di accento mi piaceva anche questo ma ripeto anche qui mi sono trovato a mettere in scena questa storia ambientata a Milano non l'ho deciso ma sicuramente non ho deciso neanche di spostarla altrove ecco mi piaceva che fosse lì ci dicevi prima che la prima nazionale è stata proprio a Milano vero? beh l'unica anteprima l'abbiamo fatta a Milano e poi come è stata accolta da milanesi sì infatti uno dei complimenti che mi hanno fatto più piacere di signore o signori che mi hanno detto io negli anni 60 questo ambientato 65 66 avevo 20 anni e mi hai fatto rivivere la mia Milano di quando avevo 20 anni per un marchigiano che è nato nel 66 che quindi non li ha vissuti e li ha soltanto così potuti scoprire una volta che erano passati ovviamente è stato una grande insomma un bel complimento che ovviamente ho diviso tra tutti quelli che quella Milano l'hanno anche ricostruita tra scenografie costumi e fotografia così come appassionato di calcio quale se pensavamo che poteva essere una mistica quasi del calcio come quelle grandi storie epiche invece no il calcio è proprio un pretesto per dirci altro il calcio è un pretesto infatti lo vedrete insomma sono molto più importanti i personaggi femminili per esempio pur avendo come protagonista un uomo il calcio è una specie di liquido di contrasto sul quale si viene fuori appunto vengono fuori i limiti e anche poi gli sproni che il protagonista vuole trovare in sé sì perché poi insomma il calcio in qualche modo è effettivamente insomma una realtà che riguarda tutto il mondo ormai ma insomma in Italia continua a essere una parte importante di confronto sociale e tutto ma insomma in questo vedrete che è un calcio ovviamente molto lontano è un calcio amatoriale perché è aziendale quindi insomma non c'entra nulla il calcio non è una storia su un calciatore è una storia di un ragioniere che viene costretto diciamo a giocare a calcio quindi se no rischia ma non diciamo di più no infatti Carmine ci fa segni inequivocabili quindi ci dispiace non poter parlare dopo aver visto il film no infatti la parte per me più interessante è quella di scambiare appunto chiacchiere curiosità dopo aver visto il film ma visto che non non l'avete ancora visto ci dobbiamo salutare così vi dico soltanto buona visione vi ringrazio di essere venuti qui a vedere Zamora e se vi piacerà ovviamente la richiesta è quella di parlarne di fare il cosiddetto passaparola perché dobbiamo sempre lottare contro i giganti americani altro che Godzilla contro Kong e qua siamo Zamora contro Godzilla quindi in qualche modo se riusciamo a contrastare anche questa cosa vi ringrazio molto bene buona visione grazie Neri anche perché poi il film rimarrà il gabbiano in programmazione quindi passate parola e fatelo camminare noi lo terremo Zamora bene grazie solo una curiosità prima del film chi conosceva Zamora risposta esatta lo scoprirete solo vivendo come dice Mogol Battisti grazie 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 ecco 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 volevo fare l'entrata trionfale con i fuochi d'artificio come diceva quello cioè con quello che dice Neri il calcio prenderà il posto della Santa Messa Neri Marco Re l'ha già preso l'ha già preso questa è la sala della comunità insomma bene grazie questo è l'applauso del Gabbiano secondo giro altro giro il pubblico penso che ci sia siamo un po' di più rispetto a prima però guarda noi ringraziamo Neri perché da quando ci ha detto guarda sì beh potrei fare un salto da voi di qua di là allora facciamo una proiezione al Gabbiano poi magari ci abbiamo Fano poi hai fatto cinque salti in quattro ore e mezzo ho fatto sei presentazioni manco Damberi fa tutti questi salti col cucchiairo raccogliamo sono un piacere davvero grazie grazie però il pubblico del Gabbiano è l'unico con cui può parlare dopo averlo sì perché prima appunto solo l'introduzione quindi ovviamente non potevamo entrare nel merito della storia adesso invece voi che il film non l'avete visto possiamo dire qualsiasi cosa curiosità insomma domande quindi se ce l'avete ovviamente sono qua per questo partiamo da no qui possiamo spaziare finalmente perché se no sì 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 partiamo dai ringraziamenti il centro sportivo rosato di Chieti curiosità no di Chieri credo sì ah di Chieri che figura infatti dice Chieti ma stiamo alla seconda domanda niente fine fine della carriera non è grave ma no fine della carriera no era nella sala 2 era piccolino ma sì ma sì Chieri è in Piemonte quindi sì giusto allora lavoravo in Rai mi approfitto per dire che le lezioni da portiere le ha date Stefano Sorrentino ex portiere professionista che ha smesso da poco tempo con cui sono amico perché ho giocato molto nella nazionale italiana cantanti e quindi ho chiesto a lui se poteva dare delle lezioni ad Alberto Paradossi sia per essere credibile come portiere ma anche per evitare che si facesse male perché se si rompeva il protagonista eravamo finiti è un gioco molto e questa è una delle insidie tra il maltempo il tempo sempre che tiranno e se c'è qualcuno che si fa male ovviamente diventa un problema per la produzione fai tutto il piano di lavorazione poi se ti devi fermare come succedeva per esempio col covid un'altra questione comunque è andato tutto bene e comunque no tornando a casa dicevo ma perché Chieti? se lo sono chiesta quindi c'era già che dicevo forse sta Roma allora è più vicino Chieti e ti sarà dado questa rimarrà me la faranno pagare da qui all'eternità ovviamente giustamente allora intanto le atmosfere meneghine siamo a Milano ok comunque questa comicità da cui attinge a piene mani anche alcuni protagonisti alcuni attori no? ce la ricordano? sì sì beh ovviamente se punti su Giovanni Storti o o Antonio Catania insomma in realtà non è tanto la comicità appunto milanese che magari si può vedere in altri film appunto dove c'erano magari i protagonisti che ne so Renato Pozzetto o Celentano hanno in passato questa insomma è una comicità che assomiglia anche se se è a Milano un po' assomiglia più al mio gusto alle cose che fanno ridere me che ci ho messo dentro insomma quindi poi ovviamente le dice Storti che tra l'altro ovviamente tipo la battuta del cordiale è sua quella non è questo cordiale non è cordiale oppure dice cambiamo marca quella è roba sua e anche roba loro quando hanno fatto quanta gente in campo 22 dolore quella non è mia quindi insomma sicuramente dato quando sai appunto dell'interprete creativo e così prima di dare lo stop aspetti che succeda qualcosa e quindi però per il resto appunto non è tanto una comicità milanese è proprio una comicità che nasce in alcuni casi dalle situazioni o semplicemente da tipologie di personaggi come per esempio quello di Ale che appunto va a prendere la cosa del caffè insomma quello è sicuramente è un modo di quelli che Milano che si lavora si lavora si lavora e quindi insomma è un po' specchio di quello no? però ecco non è tanto la comicità meneghina è più ambientata lì è più sì è l'atmosfera insomma sì sì e poi un rapporto mai risolto tra il nord e il sud del nostro paese che ogni tanto viene fuori la figura e beh sì quello non so se lo dicevamo prima ma insomma ah no non ci siamo visti prima dopo cinque dopo cinque cose mi sono perso pure io no beh lì è una citazione del film Pano e cioccolata di Brusati in qualche modo insomma ricorda il personaggio di Manfredi che viveva in Svizzera che era emigrato l'Asera tinto i capelli addirittura di biondo platino poi c'era la partita Italia Germania o Italia Svizzera non mi ricordo qual'era diceva Svizzera italiani pui 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 pure lui diceva pui poi questi svizzeri insultavano gli italiani lui fino a che poi segna l'Italia lui si comincia così per cui si prende quella soddisfazione in qualche modo l'arbitro insomma quando espelle quel giocatore che dà del terrone a tutti insomma i meridionali è un po' quella roba lì lui che prima si era un po' aveva cercato di confondersi nella nella dimensione appunto settentrionale addirittura cambiando accento poi dopo c'è la moglie che ovviamente tradisce le origini però lui cerca di alzare il volume per non farla sentire agli altri che in teoria lo prendono per settentrionale insomma e quindi si c'era anche questo gioco legato a una realtà ben drammatica invece per cui era ecco esattamente quello che in altri incontri oggi vi dicevo di rendere magari divertente o comica una situazione che sotto invece era appunto drammatica non si affitta casa ai meridionali insomma tutte le vicissitudini e le traversie che dovevano subire le persone che andavano a lavorare al nord e che ovviamente venivano venivano trattate male appunto e avevano delle difficoltà questa è una versione all'interno della storia una piccola un piccolo tratto di commedia che però attiene a quella realtà che la commedia vera è quella che sa alternare chiari oscuri della vita comunque a me perlomeno piace quel tipo di commedia quindi cercavo di fare un film che rispecchiasse questo mio gusto insomma difficilmente piace un film che sia completamente comico oppure completamente drammatico per me quelli più veri sono quelli che hanno comunque un po' o nei drammatici un po' di ironia oppure in quelli comici che ci sia un po' anche una verosimiglianza insomma ci siano tutte situazioni non credibili perché non si verificano mai e anche se se vai a vedere non so certi film che sono però dei cosiddetti fogliettoni insomma delle commedie in cui succedono delle cose rocambolesche però non sono mai credibili faccio l'esempio del film di Natale ecco difficilmente però ecco se dovevo fare un film preferivo farlo più così che in quel modo tra l'altro il personaggio che interpreti è forse l'elemento che più di ogni altro restituisce una parte faticosa della vita beh sì Cavazzoni insomma è uno che ha fatto degli errori che non torna nel suo paese dovunque sia in Veneto perché magari in quegli anni era una regione particolarmente cattolica quindi avrebbe subito diciamo il giudizio la condanna morale da parte delle persone del paese nativo e resta a vivere di espedienti a Milano pur non essendo felice però insomma vede negli occhi cioè si riflette negli occhi di questo giovane ragazzo e quindi capisce insomma in che condizione si trova e trova in questa amicizia la leva per potersi redimere in qualche modo ritrovare una propria dignità lui si deve ritrovare mentre Walter si deve proprio costruire costruire e trovare per la prima volta la dedica al film Roberto Perrone che è il libro da cui hai tratto spunto per la sceneggiatura e beh sì perché lui purtroppo non ha fatto in tempo a vederlo il film perché è morto a gennaio dell'anno scorso e quindi l'unico cruccio l'unico dispiacere per questo Zamora è proprio questo insomma di non essere di non aver fatto in tempo però aveva letto la sceneggiatura era molto commosso anche mi aveva chiamato quando l'aveva letta poi ogni tanto gli mandavo delle scene delle foto dal set insomma era molto contento però poi ecco da lì a due mesi se n'è andato quindi insomma non ha fatto in tempo a goderne diciamo come come l'ha incrociato questo libro come è capitato era proprio perché questo doveva essere un progetto che poteva diventare un film già vent'anni fa io avrei dovuto essere il protagonista anche se non so effettivamente se avrei fatto la regia o meno però era proprio un'idea che mi era rimasta in canna come si dice quindi l'ho proposta poi ad Agostino Sacca e anche in quel caso lì non ero andato lì con l'idea di fare la regia ed è stato lui a dirmi però la regia la devi fare tu e in effetti insomma era una storia che sentivo dentro proprio perché l'avevo proposta e con tanta sicurezza insomma ero sicuro di poter essere in grado di interpretare quello che erano i movimenti del cuore di questo personaggio che appunto si sente inadeguato è timido impacciato si nasconde dentro questo guscio di ragioniere di professionista che comunque fa il suo lavoro ma non ha male sorprese e vive una vita appunto ordinaria senza cercare niente di diverso e quindi insomma da allora da quando l'avevo letto una ventina d'anni fa mi era rimasta la voglia di farlo poi parlandone tre o quattro anni fa più o meno quando avevamo girato un film a San Benedetto del Tronto è partita l'idea di farne un film e quindi è partita la classica lavorazione abbiamo cominciato a scrivere il soggetto poi la sceneggiatura poi la prima revisione la seconda poi una volta approvato abbiamo fatto il cast i sopralluoghi a Torino abbiamo girato quasi tutto il film a Torino tranne due giorni a Milano e poi il montaggio che è una seconda regia pure un'esperienza fascinante bellissima dove puoi sistemare le cose puoi cambiare tante cose e basta poi c'è il missaggio e poi questo e poi questo sì sì anni 60 anche il libro immaginiamo sia libro 63 io l'ho spostato un po' più vicino al 68 è 65 questo va dalla storia va da ottobre 65 a maggio 66 perché un po' era così mi piaceva che finisse nell'anno in cui sono nato ma non è tanto questo era perché si avvicinavamo un po' di più al 68 mi piaceva che si percepisse in alcuni personaggi lo spirito del 68 che sarebbe arrivato insomma quindi evidentemente c'erano già delle tracce negli anni prima i personaggi femminili interpretano molto questo spirito libero questa intelligenza vivace questa emancipazione che soprattutto Dorina la ragazza con cui balla Walter alla fine è proprio l'emblema di una emancipazione anche nei costumi nei comportamenti non è sempre dover aspettare mentre Ada per esempio aspetta comunque che sia lui a prendere l'iniziativa anche quando poi non la invita più fuori salvo poi ovviamente tirar fuori tutta la sua forza e la sua profondità la sua intelligenza nel momento in cui lui pensa di dare una lezione a lei invece di lui che la subisce lei è iscritta diciamo sta nel solco dello spirito degli anni 60 però ovviamente sta mentalmente più amati l'altra è già anticipa in qualche modo la mamma ma la mamma non so non ero qua però di solito quando c'è lo spumante di solito a volte c'è un applauso a volte una risata anche ilvira tutto sommato ilvira è proprio assolutamente insomma si per negli anni in cui le reclame le cosiddette reclame parlavano della della lavatrice della lavastoviglie tu donna quando il tuo marito arriva stanco la sera preparagli il manicaretto era quella diciamo la dimensione sociale del ruolo della donna all'interno della famiglia solo per i figli e per il marito lei in quegli anni lì rivendica il diritto alla felicità e non è il matrimonio il suo traguardo il matrimonio forse è stato semplicemente un pretesto per allontanarsi da Vigevano dove c'era quel padre che evidentemente insomma che solo il primo maggio non si dava da fare sì esatto che era un po' ingombrante sicuramente insomma dominante che teneva sotto sia al figlio che appunto su questo rapporto diciamo di poca stima ma anche evidentemente era abbastanza così diciamo rispetto alla figlia evidentemente abbastanza in controllo quindi magari lei si è sposata semplicemente per andarsene a Milano e allontanarsi dalla famiglia poi lì capisce di non essere felice con quest'uomo evidentemente noioso come racconta lei e fregandosene delle convenzioni sociali si separa da lui e si prende la propria vita insomma quindi il diritto alla felicità che è appoggiato dal gesto anche della mamma quindi le tre donne che ognuna per la propria situazione e la propria dimensione rivendicano la propria dignità era già iscritto così nel libro? no nel libro i genitori non ci sono nel libro i due sono fratello e sorella vivono già a Milano e non si sa se sono orfani o insomma in ogni caso i genitori non sono presenti nel libro nel libro loro vivono a Milano e lui si trasferisce poi a lavorare a Erba che è un paese nella periferia di Milano quindi è il contrario a me piaceva invece che dalla provincia alla città in qualche modo quello che è successo a me da Porto Sant'Elpidio a Roma in qualche modo quindi fare e ricalcare anche questa differenza anche passare da un'azienda piccola dove l'ufficio è stretto e sotto controllo a un'azienda che sembra quasi un'astronave quindi anche questa alienazione anche il fatto di stare in una stanza molto grande dove la sua solitudine viene risaltata ancora di più questi sono vabbè tratti diciamo subliminali che passano evidentemente attraverso il metalinguaggio però insomma ogni particolare è stato anche studiato e curato perché arrivassero delle sensazioni anche non necessariamente a livello appunto conscio ma appunto subliminale e anche la figura di Walter nel tempo l'hai definito un film di formazione no? Sì è un romanzo proprio un romanzo di formazione perché lui in effetti si forma e sbattendo di qua di là prendendo schiaffi l'uno dall'altro però insomma una lezione la impara e quindi alla fine del film lo vediamo sicuramente diverso da come l'abbiamo conosciuto ha fatto ha costruito un percorso ci sono stati alti e bassi però sicuramente nel finale del film grazie anche a questo a questo ballo a questa ragazza che gli chiede se ballare con lui finalmente lui sembra cedere ancora una volta invece se la se la se la appunto prende questa opportunità e semplicemente non è che tanto che si fidanzi o meno questo non lo sappiamo è semplicemente l'apertura alla vita l'apertura a nuove possibilità che fino a quel momento non si era dato e anche Ada che sparisce dall'orizzonte anche questo è un beh Ada insomma a me non piaceva il finale con loro due e anzi c'era chi voleva che fosse quello e il finale io mi sono opposto con tutte le forze ho detto le donne mi scannano se faccio no ma non era non volevo io insomma non era non aveva senso una una donna delusa da un comportamento del genere no che non non cattivo ma sicuramente insomma ingenuo una che un personaggio che che non ti rispetta che non ti giudica all'altezza no delle sue di un confronto diretto credo che una donna lo svaluti talmente tanto che anche se può essere interessata a lui perda completamente appunto attrazione sotto qualsiasi punto di vista intellettuale erotica e qualsiasi forma no per cui non basta una parata per restituire a una donna insomma un sentimento di infatuazione come quello che si vede all'inizio quindi il finale non poteva essere con Ada non bastava una partita però Ada è stato un passaggio di crescita importante che lui evidentemente capisce per quello che è cioè nel momento in cui gli dice non sapremo mai cosa poteva esserci tra di noi accetta questo no capendo benissimo che è colpa sua e basta quindi non cerca di forzare la mano prima forse dovrebbe crescere ma magari chissà se ci fosse un sequel e non ci sarà magari lui continua a lavorare in quell'azienda dove sarà licenziato grazie invece alla segretaria che gli riporta la lettera perché magari questa partita del primo maggio era ben più di una partita quindi non è solo una partita Giorgio come dice a me davanti alla panchina ma era ben più di una partita era quasi una prova attraverso la quale lui trova se stesso e quindi a quel punto non è più importante giocare o non giocare magari continuerà oppure si licenzierà davvero e farà altre scelte non è questo appunto l'importante è importante che abbia capito cosa capito i suoi errori i suoi limiti e abbia cercato quindi di superarli fin da subito Ada lo guarda con tenerezza alla fine della partita non lo guarda innamorata guarda con tenerezza da donna generosa qual è capisce che per lui quel momento è stato importante e gli sorride lui sorride a lei con amarezza perché capisce appunto che quella cosa è finita e riparte quindi poi nel romanzo finisce diversa cioè finisce la partita addirittura nel romanzo lui para il rigore ma a me piaceva che non fosse con il sceneggiatore e dire la verità abbiamo discusso a lungo su cosa fosse più giusto fare nella fase del rigore però che lui lo parasse anche lì mi sembrava una cosa ovvia che poi era un po' fuga per la vittoria insomma con Stallone che para c'è anche un'equità lui che lo sbaglia e l'altro che lo sbagliavano entrambi perché uno è andato nella parte opposta sì vabbè diciamo lui aveva se era tuffato era la parte sbagliata ma l'altro il perfido Gusperti sbaglia uno perché è stato scorretto nel procurarsi rigore perché non c'era rigore corrompendo il guardaline ma ben di più capisce che non può tirarlo come capita perché l'altro è diventato effettivamente un bravo portiere quindi lo deve tirare bene magari metterlo nell'angolino poi sbaglia quindi alla fine tra le due opzioni era o che segnasse che comunque non venisse festeggiato ma venisse comunque festeggiato Walter oppure che lo sbagliasse e quindi fosse causa del suo stesso male e anche lui alla fine diciamo ha una sorta di redenzione perché capisce che davanti a lui non c'è non c'è quel ragazzo che ha sempre preso in giro ma c'è comunque una persona che dice lo chiama per l'unica volta Vismara e Walter può addirittura rilanciare dice ma tu puoi sempre chiamarmi Zamora perché ormai ha acquisito sicurezza di sé insomma e anche il dialogo con Elvira quando scopre la tresca tra i due è stato molto significativo perché lo descrive lo tratteggia in due parole lui rimane spiazzato e vede restituirsi un'immagine di sé di cui non era assolutamente consapevole sì lui lì vabbè ovviamente resta molto male per non essere stato messo a conoscenza di questo di questa tresca ma come gli dice lei dice ma non c'era niente da dire è successo così e basta insomma non è che ogni volta devi stare a guardare chissà insomma farla tanto lunga però lei è una donna pragmatica abbastanza pratica brusca anche a volte cioè io quando pensavo a quel personaggio lì pensavo come idea a Mariangela Melato no più o meno come riferimento a volte lo dicevo anche ad Anna Ferraioli Ravel che ha interpretato la sorella e quindi è una donna che nel momento in cui si dice chi dei due ha pagato gli hanno schiafo ma il giorno dopo dice vabbè ma dimentichiamo sta cosa andiamo avanti non stiamo sempre a rimuginare come invece fai tu e quindi va avanti e dice insomma poi c'è quel dialogo nel quale lo spinge quasi a parlare con Cavazzoni e quella spinta invece lo porta ad andare ad affrontare Ada e anche quel passaggio diciamo nel romanzo è un po' diverso ci mette un po' di più per arrivare a quello però insomma noi avevamo bisogno di arrivare subito a questo confronto le canzoni giocano un ruolo fondamentale sia quelle di quell'epoca che quelle che Pacifico ha creato appositamente per questo film è quasi una sottolineatura continua a quello che sta avvenendo quasi le canzoni leggono i pensieri di Valtre in certi momenti le sue emozioni quelle già conosciute sembrano scritte apposta per sottolineare alcuni passaggi di questo film quindi anche questa mi è sembrata quando le ho scelte mi sembrava una magia proprio sembra che questa frase sia scritta per questo evidentemente perché un po' forse certi sentimenti girano certe emozioni o passioni che viviamo evidentemente sono sempre le stesse poi cambiamo nome cambiamo ruolo insomma che sia uomo donna o l'epoca diversa però il film inizia con ma che freddo fa che è il freddo che comunque lui ha nell'anima non avendo ancora vissuto poi dice cos'è la vita senza l'amore che in qualche modo è la sua base di partenza poi quando sui monti di pietra può nascere un fiore in me questa sera è nato l'amore proprio quando si innamora di Ada capisce che si è innamorato poi vabbè c'è un pezzo di Gaber che è il pezzo davanti al locale è semplicemente insomma la musica negli anni 60 dei locali poi c'è Arrivederci di Bindi era anche un modo per ridare un po' di luce a questo cantautore spesso considerato secondario rispetto ad altri invece era insomma un gigante al pari di di Andrè o di tanti altri che vengono insomma o Tenko insomma che vengono alla mente prima e poi c'è il nostro Jimmy Fontana marchigiano che con questa canzone sembra veramente suggellare una filosofia che gli amori appena nati gli amori già finiti comunque sia il mondo gira e quindi domani è un altro giorno e quindi va affrontato per quello che è dimenticandosi appunto non degli errori facendo tesoro degli errori ma lasciando andare quello che ormai non possiamo recuperare più e cercando di goderci questo che abbiamo questo presente e quello che che ci regala il futuro prossimo appunto andandoci a cogliere le nostre opportunità una colonna sonora che ha accompagnato e poi ci sono dei brani e poi c'è Pacifico che ha scritto ovviamente le musiche e Neri Marco Re che canta con lui è vero? sì non so se se l'avete notato comunque un applauso anche per l'interpretazione canora bellissima è che mi diverto a fare queste piccole cose per cui che ne so ai radiocronisti non è che potevo chiamare qualcun altro infatti io insomma da Ciotti a Meri insomma era stato il mio primo mestiere quello dell'imitatore per cui ho anche Mike Buongiorno fa la domanda su Zamora oppure appunto questa canzone che si sente a metà quando sono in Valera e quelle due canzoni appunto le scritte Gino in arte pacifico Gino de Crescenzo siamo amici da anni e appunto poi tutte le altre canzoni strumentali che accompagnano alcuni momenti alcune più struggenti altre invece più allegre insomma che un po' un po' con i suoni che erano tipici degli anni 60 un po' con quella strumentazione quel tipo di di sonorità e anche la ricostruzione ambientale d'atmosfera gli oggetti i colori stessi della pellicola chiamiamola pellicola anche se non ci sappiamo che non c'è più le luci ecco rimmergersi in quel tempo in quella situazione così particolare da poco era finita la guerra l'Italia stava uscendo dalla miseria da una frustrazione e guardava avanti si stavamo nel boom economico negli anni 60 appunto la guerra qualche anno qualche anno prima insomma però comunque si nella ricostruzione immediata poi però è soltanto dopo una ventina d'anni 15-20 anni che diventa evidente che l'Italia è ripartita insomma e che quindi c'era un'Italia in cui ognuno cercava di avere la macchina di avere il televisore di acquistare anche quegli oggetti insomma forse inizia lì proprio il consumismo cioè da lì che si comincia a ragionare in modo diverso sì sì l'industria il consumismo e tutto questo e quindi poi vabbè nelle luci che nella fotografia ovviamente anche lì ragionando facendo insomma riflessioni con il direttore della fotografia con la scenografia e tutto insomma a quel tempo lì le luci non erano così forti o sparate come abbiamo adesso le città non erano così illuminate nelle case c'erano le lampadine c'erano piccoli lampadari insomma uno costava forse di più si risparmiava anche su quello e quindi c'erano delle luci più più soffuse rispetto a quello che abbiamo adesso e quindi anche anche quel modo di illuminare gli ambienti soprattutto di notte soprattutto interni era quello lì quindi è frutto proprio di una di una scelta e beh quello insomma fa parte del lavoro scrupoloso che si fa quando si affronta un film se lo fai appunto ambientato negli anni 60 quello che abbiamo pensato era di fare questo tipo di ragionamento e di cercare di riportare quei colori quello spirito in vari modi insomma quando fai un'altra epoca ovviamente fai altri ragionamenti però insomma questo è credo che che appunto questo film visto al cinema abbia un altro sapore rispetto a vederlo ecco in casa o in televisore tante volte si sa la differenza qual è se te lo vedi in casa o è al cinema tanto fra tre mesi comunque arriverà nel televisore a parte che è un'esperienza più immersiva quella proprio di stare un'ora e quaranta a vedere un film senza telefonini o distrazioni ma poi vedi effettivamente al meglio tutto il lavoro che è stato fatto è ovvio che sia a livello sonoro che anche visivo in casa un film del genere perde molto credo mentre altri film magari possono essere visti indifferentemente però questo tipo di film secondo me è meglio vederlo al cinema e dicevi che sei stupito dal fatto che in sala hai visto comunque hai avuto notizia della frequenza anche di giovani generazioni di bambini di famiglie che effetto pensi possa fare non so nella testa di un bambino l'idea che ad esempio un cellulare non ci fosse il telefono aveva bisogno del filo la televisione si vedeva insieme perché alcuni soltanto l'avevano e quindi invitavano altri vicini o conoscenti eh beh sì quello sicuramente è anche un effetto che farà magari poi qualcuno lo sapeva magari si sa che fino a un certo punto non ci sono state tutte queste cose però effettivamente vedere un'epoca nella quale per telefonare magari devi andare al bar o comunque le macchine erano più piccole insomma gli abitacoli si stavano più stretti e e non stiamo parlando no non stiamo parlando certo di secoli fa però effettivamente negli ultimi decenni insomma lo sviluppo tecnologico è stato talmente accelerato che effettivamente bisognerebbe chiedere appunto a qualche bambino o ragazzino che sta vedendo il film però vabbè ce ne sono anche tanti altri ovviamente ambientati nei decenni scorsi quindi sicuramente non è una sorpresa per chi magari vede film o storie però ecco invece è vero che non ho mai pensato al tipo di pubblico che avrebbe poi diciamo apprezzato questo tipo di film non è una sorpresa perché comunque è un film sicuramente pulito quindi lo possono vedere tutti insomma veramente da grandi a piccini come si dice però vedere anche nelle sale appunto in questi giorni che ho girato un po' l'Italia anche delle giovanissime generazioni mi fa piacere sapere anche che lo apprezzano alla fine magari appunto ho chiesto loro cosa ti è piaciuto di più ho chiesto a un ragazzino a Milano che aveva nove anni aveva detto tutto mi ha detto vabbè basta così allora cosa ti è piaciuto di più tutto va bene allora posto poi non so se ci sono domande curiosità se tu vuoi non so se ne avevi altre a molte abbiamo già risposto immagino però sì se è la prima di una lunga serie questa tua avventura perché no beh sicuramente insomma è stata un'esperienza per me talmente bella appunto prima ancora che il film uscisse che la voglia di farne altri di film c'era e c'è a maggior ragione adesso che il gradimento di chi lo vede è alto insomma questo a prescindere da come poi andrà al cosiddetto botteghino però il produttore già sono mesi che mi chiede di scriverne un altro di girarne un altro quindi da questo punto di vista la strada è aperta quindi sono sicuramente desideroso di cimentarmi con una storia che deve essere ovviamente molto diversa da questa cioè mai fare l'errore di fare la stessa la stessa cosa da me viene da citare Troisi che dopo che aveva fatto ricomincio da tre stava andando Baudo gli chiedeva adesso che cosa cosa farai dice no io aspetto di sbagliare un secondo film perché tutti quanti dicono il primo così è facile ma il secondo lo sbagli sicuro io gli dice io lo sbaglio apposta così almeno mi levo il pensiero e posso fare il terzo quindi dice mi metto a sbagliare il secondo e poi vado avanti no però non ho neanche l'ansia adesso di doverlo fare nei tempi che decidono altri voglio deciderli sempre io adesso ci sono altre cose prima mi godo il presente mi godo questo Zamora che comunque appunto presuppone più o meno insomma due anni di lavoro anche tra anche fasi nelle quali non scrivi magari non te ne occupi però insomma un film tendenzialmente due anni due anni e mezzo insomma li prende quindi prima di affrontare il prossimo ci voglio pensare bene anche perché appunto è una cosa impegnativa che ti occupa parecchio tempo e quindi voglio decidere bene quale sarà il prossimo soggetto su cui lavorare ed era bello quando dicevi che Alberto paradossi ha richiamato il tè degli esordi con lo sguardo di Pupi Avati che ti apriva una strada sì beh dico che in qualche modo questo che lui è il primo protagonista che fa al cinema in queste uscite pubbliche gli ho augurato di avere la stessa fortuna e possibilità e opportunità che ho avuto io dopo aver girato vent'anni fa con Il cuore altrove di Avati nel quale appunto ero protagonista e dal quale sono andate poi tante nuove proposte diciamo da quel 2003 quando è uscito e quindi insomma spero che per lui davvero visto che è bravissimo e si aprano davvero tante strade così come per lui anche per Giulia Gonella che anche lei insomma fa una parte piccola però è proprio all'esordio assoluto e poi ci sono Marta Gastini che va bene è un'attrice che io trovo straordinaria che fa Ada e anche Anna Ferraioli Ravel che abbiamo visto anche in Titina De Filippo e recentemente anche nel film di Virzi che riesce a cambiare tantissimo ma vabbè poi Giovanni Storti una certezza Giacomo fa il cameo insieme a Alef Franz sono stati generosi amici a cui ho chiesto se potevano appunto partecipare con piccole cose ma ovviamente molto evidenti molto precise che potevano portare a casa appunto un risultato vabbè poi il talento di Antonio Catania sempre molto misurato la Pia Englebert la segretaria appunto di Tosetto che è un carattere insomma un'attrice che conosco da tanto tempo a teatro Pia Lanciotti che appunto ho scelto praticamente sulla carta con cui avevo girato quel film a San Benedetto che si chiamava Digitare il codice segreto e là c'è Walter Leonardi che è l'antagonista che è l'ultimo attore l'ultimo ruolo che ho messo appunto nella casella che mi mancava perché era molto difficile trovare un attore che sapesse interpretare questo ruolo un po' so accettato che sembrasse appunto uno sciupa femmine quindi un po' insomma come abbiamo visto Quascone che però poteva essere simpatico in certi casi e invece urticante in altri che potesse avere un certo fascino ma al tempo stesso anche respingente e per fortuna insomma un paio di settimane prima di cominciare a girare ho fatto il provino anche lui che pur conoscendolo insomma dovevo vedere in questo ruolo e l'ho trovato e quindi siamo partiti poi manca Giuseppe Antignati pure che è il padre che anche lui lo conosco da tanti anni ci eravamo conosciuti in teatro e quindi insomma tra quelli con cui avevo lavorato quelli che avevo in mente quelli che ho scoperto strada facendo ho messo insieme questo arcobaleno di bravi attori e attrici credo la situazione sono tutti incollati non riescono a parlare non so di solito quando si rompe il ghiaccio poi cominciano però non c'è nessuno che rompe il ghiaccio o ne chiami uno te da lassù punta il diso si vede che già o abbiamo risposto a tante domande che ognuno aveva in testa oppure non lo so ci sono curiosità anche piccole prima Neri mentre mangiavamo dicevamo che insomma dal film si nota l'armonia che c'era nel set e la domanda che facevamo a cena comunque che ci chiedevamo era quante ore di girato per fare un'ora e quaranta secondo me ne hai fatte poche di ore di girato cioè ti è venuto quasi tutto buono la prima no beh tutto buono la prima no perché tante volte insomma sono scene composte in cui i protagonisti devono muoversi in un certo modo le comparsi in un altro insomma è una bella macchina da mettere insieme quindi non è detto però sicuramente avevo le idee chiare su quello che vedevo nella scena cioè dalla sceneggiatura dallo scritto a quello che doveva essere realizzato sapevo già più o meno come impostarla perché ce l'avevo visivamente in testa quindi sicuramente non ho sprecato tempo a fare cose che non mi sarebbero servite però è ovvio che poi quando vai a sintetizzare insomma a spremere il succo prendi proprio l'essenza quindi per arrivare a questi cento minuti non so quanti sono stati di girato magari però di buoni magari cinque volte tanto sette volte tanto come minutaggio poi però ovviamente alcune cose non ti servono te ne serve magari un pezzetto di un chuck che dura due minuti magari prendi trenta secondi poi un altro pezzetto lo prendi d'altre per cui è così diciamo sicuramente sì oltre tre o quattro chuck non sono andato ogni volta perché tanto poi alla fine è inutile essere troppo minuziosi se hai tre mesi di tempo magari per girare puoi pure fare molti più chuck ma quando invece devi economizzare anche sul tempo a disposizione sei costretto un po' ad arrivare prima possibile al risultato e anche un po' ad accontentarti in certi casi aspetta c'è oh attenzione chi è? sono qua su a parte che c'è il faro punta sì se sta dietro il faro io non guardo ce la fai senza microfce l'acustica è buona sì sì l'acustica è buona più che una domanda è una constatazione cioè a me da l'idea ultimamente questo film lo conferma io vengo dalla settimana scorsa da un mondo a parte aveva il soggetto principale il soggetto dell'ottesa categoria di questi uomini che il muso massimo viene classificato scusate per potermi in una specie di francese ma un po' coglione quindi è sempre o un'archistica o che si scatta alla fine lui con una certa consistenza un personaggio che ha una sua personalità è un bello portiere però che viene da una situazione di vita disastrose disastrate bianca in una vita più o meno normale sono un po' 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 e quello che pensi è un po' infatti lo è rido perché mi fa ridere la forma ma ma l'hai visto infatti è molto di niente è paura sì sì lo vedo beh allora a parte il fatto che quello che penso è che in generale forse dovremmo smettere una volta per tutte questa battaglia dei sessi sono meglio gli uomini sono meglio le donne insomma perché se no non si finisce mai no perché comunque se credo che nella distinzione dei ruoli chi è più bravo a fare determinate cose che in un altro insomma se ci si mette d'accordo possiamo anche ecco smettere di sorpassarci a vicenda no così e questa è semplicemente una storia nel senso che al di là del fatto che ovviamente le donne mi piaceva disegnarle in questo modo in un'epoca in cui erano comunque appunto in secondo piano rispetto agli uomini quindi anche attraverso un film si può prendere posizione no anche per rilivellare o riequilibrare qualcosa che non era giusto che fosse ma socialmente era così quindi voglio dire per carità non è che uno può sovvertire quello che poi la società è come per dire avete visto quanto si fumasse a quell'epoca era una cosa normale uno non è che dice ah che bruto anche al cinema si fumava accidenti se mi ricordo per cui adesso giudicarlo col senno di poi è una cosa non ha senso quindi voglio dire era così e andava bene che fosse così però al di là di questo al di là di quello che può essere metaforicamente parlando a me piaceva che si parlasse della storia proprio dell'inadeguatezza che questo protagonista vive un po' della paura di vivere e poteva anche essere una donna ad avere paura di vivere però in questo caso io ho preso questa storia che era già scritta in questo modo e quindi lui impersonifica questa inadeguatezza questa timidezza e come insomma spesso ho detto in qualche modo rivedevo me stesso adolescente in questo personaggio quindi in qualche modo pensavo di essere in grado di aiutarlo anche a restituire questi tipi di atteggiamenti o di nascondimenti che io stesso attuavo appunto per essere confuso un po' con la carta da parati invece che essere visibile no? poi magari invece nel tempo ti viene voglia di essere ben visibile di trovare la propria voce però diciamo a vantaggio degli uomini se possiamo recuperare anche questa cosa posso dire che sì lui il protagonista potrà essere anche un po' coionotto oppure anche qualcun altro però diciamo che passano attraverso un cambiamento e una crescita che poi alla fine li porta invece a essere sullo stesso livello diciamo non meno dignitosi dei personaggi femminili c'è un riscatto da parte del protagonista c'è un riscatto da parte del personaggio di Cavazzoni che in qualche modo ritrova la forza grazie a questa amicizia di andare a trovare il figlio che non andava non lo affrontava per paura appunto di essere giudicato cosa che sembra essere nel primo impatto confermata e poi invece per fortuna il figlio in qualche modo lo aspettava e lo perdona e quindi diciamo che se c'è questo gradino di partenza poi alla fine tendenzialmente sono tutti più o meno allo stesso livello quindi al recupero di questa domanda effettivamente molto pertinente ho conquistato il microfono innanzitutto complimenti film che supera qualsiasi aspettativa di un film alla prima regia quindi bello tutto bello come ha detto il bambino di nove anni tutto bello grazie una domanda invece l'uso dei primi piani che sono molto ma forzati nel senso visi addirittura che si può contare di tutto che è una scelta estremamente complicata se l'attore non risponde bene agli stimoli del o del registro proprio è stata una scelta pensata voluta o è desiderio di dare un'impressione no beh insomma è ovviamente una scelta ponderata non è che come trovavo alla fine della giornata che avete fatto un primo piano no ma in realtà non guarda non ce ne stanno neanche tanti secondo me ci sono dei film in cui c'è a volte un eccesso anche dei primi piani ci sono dei film che sono girati sempre vediamo i protagonisti molto molto vicini è un linguaggio cinematografico quello di vedere di inquadrare appunto una situazione un soggetto da molto lontano da vicino in media grandezza insomma dipende è ovvio che quando giri fai tante riprese diverse nel senso che una scena una volta che capisci in quanti famosi si chiama così tagli cioè quanti punti macchina devi avere e ogni punto macchina fai all'interno della stessa cosa magari delle lenti diverse quindi ce n'hai una più larga una più stretta una più vicina quindi poi dopo al montaggio decidi anche quello che ti parla meglio per raccontare quelle cose è ovvio che tutto quello che è un'emozione che passa attraverso che passa dal cuore appunto dallo stomaco arriva agli occhi ha bisogno di essere sottolineata con un primo piano ecco secondo me non ce ne stanno tantissimi quelli che ci stanno secondo me sono giusti per sottolineare questi passaggi emotivi ne ricordo a memoria un paio cioè quando sta nella macchinetta del caffè quando Ada lui se ne va e lo guarda teneramente perché capiamo che anche lei insomma lo guarda con questo innamoramento che sta iniziando un altro primo piano è quando Cavazzoni alla fine quando io gli dico peccato potevi essere un gran portiere e lì c'è proprio un avvicinamento e andiamo quasi vicino a lui per leggere appunto il suo smarrimento in quel momento gli dice una cosa che non si aspettava lo stesso primo piano quando il confronto tra Ada e Walter nella sala da te partiamo in realtà all'inizio molto lontani siamo in un piano medio nel momento in cui lui capisce questa situazione ci avviciniamo un po' più vicino a lui quindi è linguaggio cinematografico ovviamente quindi le cose si possono girare in mille modi diversi ovviamente e ogni modo dà risultati esiti diversi che trasmettono allo spettatore sensazioni diverse quindi se fai tutto con la macchina fissa sai che insomma ottieni un certo risultato se vai più in avvicinamento non ottieni un altro quindi ogni cosa è stata più o meno pensata e poi magari ripensata e rivagliata in fase di montaggio però nulla diciamo è affidato al caso Carmine non lo vediamo più ci dico c'è qualcuno laggiù? sì eccomi sono qui qua giù sono una voce da lontano da lontano sono qui al centro sì a parte il fatto che il signore mi ha spoilerato la domanda quindi adesso cercherò di riformularla come se fosse nuova però quello che mi è piaciuto molto è diciamo l'attenzione agli sguardi che in un certo senso restituisce visto che io non l'ho vissuto anche il periodo storico dove non dove non si poteva parlare non si poteva andare allo scoperto mi chiedevo come sei riuscito a inserire questi momenti nella sceneggiatura anche a livello di regia cioè quando ti sei immaginato i momenti in cui loro si guardavano in cui loro ammiccavano si sfidavano non so se mi sono spiegato bene sì guarda in realtà è vero che quando cominci a a girare a impostare una scena diciamo perché ovviamente sapete insomma la sceneggiatura viene spacchettata in scene diverse si mettono insieme le scene nello stesso ambiente quindi per dire la prima settimana abbiamo girato nell'azienda di Tosetto e lì abbiamo girato tutte le scene che sono poi distribuite nell'arco del film quindi per dire insomma a chi non conosce come funziona la lavorazione di un film come si approccia poi ogni giornata appunto si girano determinate scene possono essere la 2 la 7 la 50 e la 91 e e cominci a impostarle ti metti lì e dici allora questa qua io la immagino così tu stai qua tu stai qua poi ti alzi ti dici questa cosa eccetera e poi si costruisce un po' insieme nel senso che poi oltre all'impostazione che dai diciamo agli attori lasci anche un po' fare loro vedere cosa cosa gli viene spontaneo fare come muoversi e vedi se questa cosa che loro viene spontanea ti convince oppure c'è bisogno di modificare qualcosa magari perché o è troppo statica e quindi c'è bisogno di muovere di cambiare postura posizione di muoversi appunto oppure invece deve essere statica e quindi deve essere magari la macchina da presa che si muove intorno per creare un po' di dinamismo e poi tante cose sono affidate veramente al talento di chi recita perché al di là delle battute che hai scritto e del fatto che magari appunto hai discusso come quel personaggio si muove poi l'attore o l'attrice interpreta quel personaggio nella maniera personale nella maniera soggettiva con la propria sensibilità e tu da regista assisti a quello che è la loro insomma rappresentazione di quello che più o meno è stato scritto ed è stato discusso e a quel punto intervieni e dici allora qua va benissimo questo teniamo questo sguardo qua invece lascia un silenzio più lungo per esempio quando loro stanno in macchina è il momento dell'imbarazzo tra loro due lui prima di dire di terriar fuori la proposta di uscire al cinema ci mette un po' e mi piaceva che lì ci fossero questi silenzi che sono abbastanza realistici nella vita quanto tempo passiamo in silenzio non è che stiamo sempre fitti fitti a parlare soprattutto in una situazione del genere e allora lì poi dici semplicemente lasciate più spazio tra questa battuta e quell'altro oppure quando lui ti guarda tu non lo guardare e viceversa quindi dai delle direttive che poi loro interpretano al loro modo e siccome sono tutti molto bravi quando tu stai lì a guardarli a volte mi mettevo vicino alla macchina da presa dietro o a volte mi mettevo magari a guardarli al monitor assisti a questo spettacolo e ti diverte e ti piace se ti piace sei spettatore nel momento in cui nasce quella cosa lì se qualcosa va corretto interviene e finisce la scena arriva lo stop e dici allora teniamo questo questo e questo qua cambiamo qualcosa e arriviamo invece a delle modifiche quindi è davvero un lavoro in divenire non c'è mai niente di precostituito se non un'idea insomma che però poi cambia forma man mano che va avanti la lavorazione bene l'ultima domanda da qua su guarda ti è caduta la penna sì ciao già in parte hai risposto con questa ultima risposta a quello che volevo chiedere quanto aiuta un regista a essere stato attore nel guidare gli attori cioè pensi ci sia differenza tra un regista che è già un attore affermato da un regista che non è stato prima già un attore cioè ti ha aiutato stare dall'altra parte sì beh al di là dell'essere affermato o meno sicuramente se io da attore quando un regista che è anche attore o attrice mi dice una cosa penso che sappia già quali possono essere le difficoltà oppure se io gli spiego qua ho questa difficoltà chi magari è attore o attrice dice sì però magari la puoi circunnavigare facendo trovando una soluzione chi magari è regista non sa magari quali sono le eventuali difficoltà di interpretare un personaggio forse fa più fatica a capire quali sono queste difficoltà poi c'è sempre un po' un discrimine tra quelle che sono un po' usando un termine tecnico pippe mentali e quelle che sono invece delle problematiche effettive quindi se ci sono delle pippe mentali fai pure presto a sgombrare il campo dici no non ti preoccupare va bene così stai tranquillo non viene cioè non ci facciamo troppa psicologia altre volte invece è giusto entrare nel merito di quella che può essere una difficoltà interpretativa di quel momento e quindi probabilmente chi fa questo mestiere chi recita e quindi può simularsi all'interno di quel personaggio lì può trovare delle soluzioni per aiutarlo oppure può dire effettivamente questa è una difficoltà a cui non avevo pensato troviamo un'alternativa quindi sì è sicuramente aiuta ecco secondo me è una dimestichezza che va a vantaggio dell'una e dell'altro ecco il fatto di sapere di cosa si sta parlando non lo so se altre metafore che mi vengono se uno tra pilota e meccanici mi veniva una metafora così insomma se uno se un meccanico è anche pilota forse se il pilota gli dice guarda c'è questa difficoltà forse lo capisce meglio invece sì insomma secondo me più esperienza fai è meglio ci si ci si comunica le cose insomma Carmine si avvicina e quindi abbiamo concluso il tempo di disposizione Neri potrebbe sei tanto torna torni a casa vero questa sera fino a luna guarda sono tutti buoni vedi ecco tutti buoni sì sì grazie grazie per questo momento apposta l'ultima cosa tanto ormai si è fatta una certa noi a Senigale ai nostri ospiti di solito noi non regaliamo fiori massi di fiori neanche opere di bene come dicevano chiamo Lorenzo perché fate venire uno grosso che mena quello di no ma è innocuo non ti preoccupare noi pratica lui tutta pancia allora a Senigale c'è un amaro sono un produttore che è un produttore di amaro quindi dopo in macchina volendo di un cordiale che poteva fare al tuo comodo dato che Giovanni Storti il tuo non era piaciuto possiamo fare un cambio li facciamo li facciamo assaggiare quindi questa è la costa della bottiglia questo cordiale cordiale dell'amaro canaglia che noi insomma mangiamo siamo contenti di farlo tutti i nostri ospiti che vengono al gabbiano c'è un fiore dentro grazie 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 bene allora questa sera tornando a casa date una carezza ai vostri bambini eccola vi ringrazio davvero per la pazienza per l'attenzione e se vi è piaciuto dite alla gente di venire a vederlo giusto perché il film rimane in programmazione ma anche a quelli apparenti che stanno fuori anche in Svizzera e in Sicilia tanto in tutta Italia e a Roberta che compie gli anni che ti ha seguito sempre dappertutto c'è una domanda fuori campo c'è Roberta qui che compie gli anni auguri a Roberta vieni su auguri Robi auguri Roberta una richiesta l'ultimo minuto grazie a tutti buona serata grazie no st'ha seguito comunque grazie